Un sopralluogo tecnico manca dal forte valore politico. Tra poco meno di un'ora del rio arriverà dopo aver intascato il passo indietro del presidente dell'ANAS Ciucci che si dimette per non essere defenestrato. Ma nel primo pomeriggio del rio dovrà confermare l'ipotesi più accreditata in queste ore 30 milioni di euro e almeno un anno e mezzo di lavori per ripristinare la viabilità dopo il cedimento del pilona della 19, la Palermo-Catania, nel viadotto Imera tra Scillato e Tremonzelli. L'ipotesi è stata elaborata dopo l'ultimo incontro tra ANAS e Regione Siciliana. Il presidente Crocetta intanto conferma che la Giunta aveva già deliberato il 12 marzo scorso lo stato di calamità naturale della zona chiedendo lo stato di emergenza. Il nodo a questo punto resta quello dei finanziamenti che dovrebbero essere a carico di ANAS e Stato attraverso i fondi della protezione civile ma soprattutto dei tempi, due mesi per individuare un percorso alternativo più efficace della statale 120 e l'attesa della demolizione delle quattro campate inclinate per capire se la corsia della A19 da Catania verso Palermo potrà ospitare il doppio senso di marcia. Sarebbe questa l'ipotesi ottimale dicono i tecnici dell'ANAS. Il traffico verrebbe ripristinato mentre si ricostruisce la corsia opposta ma le incognite restano molte a cominciare dal fronte della frana su cui si dovrà intervenire per evitare che produca nuovi danni.